Resta al Sud è la misura alla quale possono partecipare le persone che hanno un'età tra i 18 e i 55 anni, possono svolgere l'attività sia in forma individuale che in forma societaria, la misura è estesa adesso anche alle attività commerciali e tra le altre cose vi possono prendere parte le persone che risiedono nelle isole minori del centro e del nord Italia. Ricordiamo che la misura prevede un finanziamento a fondo perduto del 50%, il 50% a tasso zero, vi è 1 miliardo 250 milioni a disposizione, tra le altre cose gran parte dei fondi sono ancora disponibili per cui consigliamo chi vuole intraprendere un'attività di affrettarsi.